E' finito in parità 1-1 il primo match del 2021 della Turris sul difficilissimo campo del Bari, squadra costruita per la lotta a vertice del campionato. Nell'imponente stadio San Nicola i corallini si presentano con Giannone a sostegno di Pandolfi in attacco. Sono i padroni di casa a partire forte e dopo nemmeno un minuto Rainone stende in area Dorazio per il rigore che però l'ex Serie A Antenucci spara alto sopra la traversa. I pugliesi insistono e cogliono la traversa con Di Cesare. A metà primo tempo blitz Coralino in area avversaria, da Dalt cross al centro per Giannone che in solitudine insacca di testa le spalle dei frattali. A sorpresa Turris in vantaggio. Dieci minuti dopo Dursi è libero di calciare dai 30 metri un missile che si infila all'incrocio dove nulla può a Bagnale. Nella ripresa è un rembaggio barese con Antenucci che centra ancora la traversa. L'attaccante ex pal trova poi a Bagnale sulla sua strada a respingere un'altra conclusione, poi Montalto manca il tapin. Turris al tiro con Signorelli ma frattali salva tutto. Il Bari si rovesce in avanti con tutti gli effettivi ma i corallini resistono fino al triplice fischio. Altro risultato positivo in trasferta per gli uomini di Fabiano che fanno un altro passo importante verso la salvezza relativamente tranquilla. Nel prossimo turno la Turris sarà di scena sabato a Liguori contro la Vibonese. Grazie a tutti.